Forse una vicenda, quella del campo della nave, che non si sarebbe dovuta neanche aprire. Questo lo dico dal mio punto di vista. Invece ci sono voluti cinque anni e mezzo con una serie di atti giudiziari nei miei confronti. Prima è stato depositato e esposto alla Procura della Repubblica, poi in seguito è stata fatta una denuncia querella, sempre nei miei confronti, per l'affidamento di un campo sportivo inutilizzato alla società Arezium. Si contestava l'abuso d'ufficio al sottoscritto per una scelta politica che dal mio punto di vista ha portato solo delle opportunità al Comune, anche al centro abitato della frazione della nave e direi anche all'Arezzo. Oggi l'impianto è addirittura tornato nel possesso dell'amministrazione comunale ed è affidato all'Unione Sportiva Castiglionesi. La cosa che sicuramente rammarica è pensare che di fronte alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero una forza politica, che non voglio nominare, non dell'area di centro-destra, ha pensato di opporsi anche alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e ci è voluta l'archiviazione disposta dal giudice delle indagini preliminari per chiudere una vicenda dopo cinque anni e mezzo. Questa è l'Italia, viva l'Italia!